Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma scusa togli quella roba che sopra no? Eh fidati troppo A parte che Giulia esce tutto così Eh troppo, ma non è che esce, cioè Un pochino sì No Come no? Sì Eh un pochino sì Giulia Eh ma il vestito è così E come mai è così? Grazie Gas Maveric, grazie mille No veramente non ho parole, sono incazzato, sono veramente incazzato Spero ci sia qualche salottino su Twitch in cui entrare e fare un macello perché sono veramente furioso Sono veramente furioso Vediamo Io ho scritto voglio diventare tuo amico, ti ho mandato Iban No, no vaffanculo, no vaffanculo la mcista non esiste, la mcista è solo un concetto astratto non esiste Togli il fular lì Il cardigan No, no vedi, vedi Stavo parlando di quando giocavo a basket Che mia madre non voleva farmi giocare Perché aveva paura che diventassi tipo altissimo Perché dicono che il basket ti allungano Dici che è stato quello Ci guadagnerei dei soldi quindi mi farebbe molto 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 piacere Allora Ah Sono vivo Dicevo, con punto scanativo Prime avete posizionato di collegare il Twitch ad Amazon Prime e avere una sub gratuita al mese Sì, è una sub Assolutamente, assolutamente troppo Dopo vedi come cambio, c'è un vestitino Be', non ti vedrò dopo Si, cambio qua, non vedi che ho portato te la sacca bomba in che zona della casa ti cambi? in bagno no cammetti in sala con le telecamere grazie Ale grazie Mickey Box grazie Drindy grazie Teo Verroccio le telecamere tu puoi vederle pure? no purtroppo no ah ok no tu ti scrivono var tui cioè come se tu hai seguito tui dai vabbè ancora le palle e comunque dicevi no vabbè le stavo sul cazzo ad Anna abbastanza chiaro che le stavo sul cazzo vuoi l'aria? no 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 va bene così sto bene no Simone non fa niente perché io ho chiesto di venire con me e mi ha detto io no Giulia non vengo con te cioè siamo io te Anna e il tuo amico hai guardato il mare fuori ho guardato il mare fuori è un programma è una serie tv italiana devo dire che a me non piacciono male le serie tv italiane perché non mi piace la recitazione italiana in generale non mi piace impazzire mare fuori essendo che è in dialetto cioè arrivano un sacco i personaggi un botto un botto c'è il motore che è intasato la cosina dell'aria condizionata che si è completamente staccata c'è il freno a mano che non va su c'è quando vado veloce esce l'aria calda perché c'è il motore che si sta friggendo ho le luci davanti che la luci davanti non va dietro è rotta non so perché ma è rotta c'ho un bozzo che non so neanche quando ho fatto probabilmente non lo so ha rotto una testata da sbronzo alla macchina grazie chrismax grazie set grazie mattem grazie di noi con lo sentì ok vai grazie aia ma è così grave no 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 guarda che bannabile è bannabile dai cosa fai io nemmeno mi date un trucco ma è così ma l'hai detto no no guarda per ridere non pensavo che non pensavo che non pensavo che per fa il culo ma la cosa è in scuola dammi Giulia e sono 19 mesi che ti seguo ogni giorno oh grazie 19 mesi che mi seguo ogni giorno ovviamente ti conosci meglio dei tuoi grazie basta però tu nella nella tua carriera da influencer visto che la fai da molto più di me cioè si so c'era un po' da più di me con quante quante ship hai avuto in vita tua di quella puttana di quella puttana ma cosa cazzo fa questo ma cosa fa questo è bannabile amico il deficiente vrei bannato tra un mezz'ore avere la luna sorta non fa mai da oddio ho fatto ridere come ho fatto a non ridere come ho fatto a non ridere come ho fatto a non ridere la base ho cremato il primer ah beh il primer si ah no il primer non lo conoscevo come cazzo fate a saperlo Nick 18 come cazzo conosci il primer cioè ve lo spieghi o no bravi ragazzi bravi quindi è così ho fatto sta che veramente io non pago non pago mai non pago mai con con i contanti oggi mi grazie G Toddy grazie di 500 meg 55 meg no io 18 l'unica cosa che pago in contanti sono Giulio Paglianotto bugiardo vai la mia semplice preferita mi sono state un po' l'ultimo periodo cioè tre settimane forse Chiara Faini ti piace? un'altra simpatica si ciao top simpatica la conosci no la biondina si simpatica te si non la conosco così bene così a primo impatto va al chiuso eh ancora dobbiamo capirlo perché ce lo siamo goduti per bene solo all'aperto all'aperto solo che la cosa è che di base perché ci stavo pensando in stigione ho detto boh ma poi cioè ci vanno comunque in casa al chiuso o no e dove andreste a Milano al chiuso sì lui perché è andato al The Club ha avuto un attacco di panico perché è troppo un salutone a tutti gli organizzatori del The Club è il vostro locale storico però per quanto riguarda la mia persona quando mi ritrovo nel privé quello banco da tripo ti devi chiedere altro aspetta facciamo così mettiamo il ipertè del profilo di Pika così è pieno di minorenni oh sto quasi bannato Pika un disastro figa eccoci qua ieri e tu lì non mi hai sentito cantare ehm ho urlato di brutto altro ieri tipo non mi ricordo non mi hai mai sentito cantare no vabbè cantare sì però nel senso quando dico quando dico ti ho sentito cantare intendevo ehm ha sentito i tuoi pezzi esatto sì non l'urlo che fai quando sei qua quello qua sì tutti i giorni anche quando ti alzi non mi hai sentito